Rendere le strade più sicure supportando enti locali e forze dell'ordine arriva anche a Sarno l'accordo per la sicurezza delle strade che pista pronto intervento sicurezza stradale tutela ambientale. La società di servizi specializzata nel ripristino della sicurezza post incidenti stradali su ogni tipo di rete di trasporto sta stringendo con numerosi comuni campani sviluppando strategie e ponendo in essere azioni concrete ed innovative per tutelare e migliorare la sicurezza sulle strade. Come sindaco del comune di Sarno ma anche come presidente della provincia di Salerno ho convocato una conferenza di servizio tra i sindaci e le forze dell'ordine. Voglio semplicemente illustrare un progetto sulla sicurezza stradale sull'intervento da parte di una società di nome Pista con la quale molti comuni già del sud di Salerno si sono convenzionati a costo zero sia per la provincia che per i comuni. Si sono convenzionati e già stanno operando sulle zone dove si verificano incidenti stradali. Loro intervengono nel giro di 10-15 minuti puliscono dai detriti, dai liquami che molte volte sono inquinanti molte volte ripristinano la carreggiata con l'asfalto altre volte si impegnano il loro lavoro di ricostituire la carreggiata e mettere in sicurezza la strada.